Musica Benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, mercoledì 18 ottobre, questa è Fano TV sul canale 17. Buongiorno cari telespettatori, ben ritrovati. Allora partiamo subito perché oggi abbiamo una marea di giornali, una marea di pagine da leggere all'interno del Corriere Adriatico e del resto del Carlino con tanti titoli interessanti. Allora cominciamo dal calendario, il santo di oggi perché è un santo altrettanto importante, oggi è San Luca Evangelista. Siamo veramente agli inizi del calendario, siamo intorno all'anno 60, Luca nasce ad Antiochia di Siria. Luca Evangelista, dicevo, è colui che ha raccontato gli episodi forse probabilmente più belli, con le parabole più commoventi del Vangelo. Il buon samaritano, la peccola della smarrita, il fariseo e il pubblicano, insomma. E poi racconta devotissimo della madre di Dio, di Maria e tra gli evangelisti che è quello che ne parla più diffusamente. Il sole è sorto alle 7.26, tramonterà le 18.20, il tempo per oggi sarà un tempo sereno, ancora oggi, domani, dopo domani, come vedete dalla grafica della protezione civile, il tempo sarà buono. Poi l'avvicinarsi di una perturbazione determinerà un aumento della nuvrosità, con deboli fenomeni associati per sabato e domenica, con un peggioramento invece più deciso per la giornata di lunedì. Oggi le giornate, le località più calda, le due del pomeriggio, le temperature più alte si avranno a Macerate, a Ascoli Piceno, che toccheranno punte di 25 gradi. Sono e saranno, tireranno sicuramente un sospiro di sollievo quelli che ci ascoltano, i nostri ascoltatori di Villa Fastigia, Pesaro. Perché? Perché i carabinieri di Pesaro hanno arrestato due albanesi che hanno rubato in almeno 30 case negli ultimi mesi in quel quartiere. Pare che fosse il quartiere preferito dei ladri. Entravano con tutti i metodi, addirittura usavano come i pirati gli arpioni per scavalcare, salire, entrare, facendo buchi dalle finestre e quant'altro. Insomma, alla fine li hanno presi. Questo è il resto del Carlino, la foto in tutta la pagina, mezza pagina del quotidiano. Sul Carlino si parla anche però del congolese che ieri è stato processato, è iniziato il processo accolto al grido di assassino. Butungu sarà processato subito, ieri il capobranco alla sbarra Rimini e a Bologna ha interrogato il minore dei fratelli marocchini, ci ha fatto rapinare una coppia e ci ha dato 50 euro. Il congolese, raccontano loro, il congolese perde il primo round, per lui il giudizio sarà direttissimo. Poi prende troppo alla lettera la circolare del prefetto, questo signore non fotografa il ladro in casa, dice io ce l'avevo lì però so che non posso fotografare perché il prefetto lo vieta con questa circolare e dunque ha evitato di fargli la fotografia, in realtà secondo me ha sbagliato alla grande. Ma comunque le spese per la telecamere si potranno detrarre dall'Imu, vale per palazzi e imprese, contributo invece per i singoli. Il comune sta preparando la delibera, il comune di Pesaro. E poi, sempre dal Carlino, il vincolo, in piazza del popolo soltanto ombrelloni, in vacanza con il comune, dove nascono gli amori, si sa. E si raccontano di queste vacanze per anziani, dove a volte nascono anche degli amori un po' fuori tempo, ma sa, l'amore non ha tempo, no? Corriere Adriatico. Allora, il Corriere mette sempre in primo piano le razzie in casa con l'arpione e dopo i colpi, gli sghignazzi, presi i carabinieri, due giovani cugini albanesi, sono accusati di oltre 30 furti, ma al setaccio sono finiti il parco e la stazione, caccia di droga, come sempre controllate da polizie e finanze, decine di studenti alla fermata degli autobus. Al setaccio le rimembranze, poi tocca al Miralfiore. Ci sono già, e qui parliamo del terremoto, del post terremoto, ci sono già 200 casette in ritardo e adesso arriva anche il freddo. Addio speranze. E allora, siccome ci seguono anche dalle zone terremotrate e li salutiamo con affetto, magari ci seguono da dentro qualche container, adesso ancora parliamo di tempo quasi, insomma, con temperatura ancora liemiti, ma insomma arriverà anche il freddo purtroppo. Le casette sono in ritardo. Non è come dice la Regione, è ben peggio. Su 1264 casette da assegnare, già adesso, a due mesi dal 31 dicembre, l'orizzonte su cui Ceriscioli si era impegnato, ce ne sono 193 fuori dai tempi, cioè non consegnate, e a sentire il consorzio arcale invece è molto meglio, anzi non ci sono proprio problemi, al massimo ritardi di pochi giorni. E poi sotto Botungu, sit-in e insulti, con sei un boi assassino, stupri di Rimini a processo il 10 novembre, previsto rito abbreviato, con sconto di pena. La pagina di Fano del resto del Carlino. Grizzly, a dicembre scade il contratto. Il Comune ci offra, chiedono loro, un'altra sede. I ragazzi sostengono di essere pienamente legittimati, ma il centro-destra va all'attacco. Il nodo è che nel contratto si parla di una sede alternativa, ma non della delibera. Nuovo, sul caso GPA, su chi deve riscuotere i tributi nel Comune di Fano, nuovo gestore di tributi, bando pubblicato, poi sospeso, infine riattivato, modificati alcuni requisiti e prorogata la scadenza. Candidatura entro il lunedì 23 ottobre. L'amministrazione di Fano si è data a tempi strettissimi per far ripartire al più presto il servizio di riscossione. La pagina di Fano invece è per una notizia che ha solo il Corriere. Questa mattina a minore è travolto sulle strisce da un motorino, paura in centro. Anche le fotografie, le foto sono di questo incidente avvenuto in viale 12 settembre vicino alla stazione ferroviaria. Schianto nell'ora di punta, traffico in tilt, il ferito più grave è risultato l'investitore. I cavalli, parliamo della Fano dei Cesari, possono correre ancora. C'è stato questo incontro, Fano Romana, Comune e Associazioni a caccia di risorse. Marcheggiano, il vice sindaco, non vuole archiviare la sfida classica delle bighe. L'assessore però dice che bisognerà trovare dei finanziatori e occuparsi della sicurezza. Sotto fanno sentere Carnevale, ragioniamo insieme, fanno sentere il nuovo centro commerciale, quello ampliato dell'Ocean, il presidente Marcolini e il direttivo. Sono andati ad incontrare il sindaco di Fano Massimo Seri. Ecco qui la notizia più nel dettaglio che abbiamo visto in primo piano in apertura sul resto del Carlino. In prima pagina, un ladro in casa, volevo fotografarlo ma poi ho pensato che non potevo. A San Costanzo, un 67enne, prende troppo alla lettera circolare del prefetto. Lui dice, l'ho visto nel giardino dalla finestra del bagno, aveva una torcia in mano con cui stava illuminando la mia casa. Il grido del pensionato contro il ladro, questi si tira sul cappuccio, fugge insieme ad un complice. Sono stati allertati subito i carabinieri che sono arrivati. C'era stato un altro episodio lì vicino. Ho voluto denunciare, non ho armi ma qualcosa devo fare. E c'è tutto il racconto. Cantiere infinito invece in via Veneto a Fermignano, la fine era prevista per sabato. Per i Lillini ci sono danni al commercio. Mentre a Fossombrone, Chiara Billi dice, i 5 stelle incoerenti sulla politica del Vista Red, cioè le telecamere che fotografano gli automobilisti indisciplinati. In campagna elettorale, dice Chiara Billi, avevano promesso la revisione di queste telecamere. Poi il caso del piccolo Baby J, e qui siamo di nuovo a San Costanzo sul resto del carino, il bimbo conteso, la battaglia di Cappiello. Questo caso finisce in Parlamento. C'è un'interrogazione dell'onorevole Beatrice Brignoni. Poi da Mondolfo invece la politica, l'aspirante segretario è un ex del Popolo delle Libertà, è un berlusconiano, quindi se ne vada nel Partito Democratico c'è la fronda anti-mancini. Samuele Mancini, unico candidato alla segreteria del PD di Mondolfo, con Giovanni Gostoli, segretario provinciale. Per i pesaresi, per quelli che non ce la fanno a pagare un mutuo, ecco un fondo anticrisi. L'amministrazione guidata da Matteo Ricci ha incontrato i sindacati. Dunque, rendere l'accesso al fondo anticrisi per il 2018 più adeguato alle necessità delle fasce deboli e dei redditi medi. Sarà questo l'obiettivo dell'amministrazione pesarese. Dal prossimo anno, infatti, l'accesso a questo fondo anticrisi potrebbe andare a beneficio di occupati, con un basso reddito, ISEE, e disoccupati che non riescono a far fronte agli impegni presi con gli istituti di credito. Una casa della salute può servire e per servire soprattutto Vallefoglia, presentata la struttura che sarà inaugurata l'11 di settembre. E poi la notizia sul Carlino, la pagina degli spettacoli, del presidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, che è anche arcivescovo di Perugia, città della Pieve, che sarà a Pesaro, sabato, all'auditorium Pedrotti, per rilanciare il settimanale storico delle diocesi di Pesaro, Fano e Urbino, che è appunto il nuovo amico. Stiamo parlando di stampa cattolica. Per il rilancio di questa storica testata, anche un convegno su giornalismo e attenzione alle periferie, così come vuole Papa Francesco. Da Urbino, PD, un problema è prossimo venturo. Andrea, aromatico, non rinnova la tessera. Ex-stratega delle campagne, lancia Moniti. Qui c'è un'intervista di Laro Ottaviani a questo politico, che però è anche un cacciatore e scrittore, tant'è che il Carlino pubblica, vedete, una bella, nel senso, una grande foto a tutta pagina. Andrea Aromatico, che imbraccia il fucile, perché scrive anche per riviste di settore, quelle che riguardano la caccia, ed è anche un autore prolifico, con la politica urbinata e ha un lungo sodalizio. Unione Montana, siamo ancora sulla pagina di Urbino, però del Corriere Adriatico. L'Unione Montana, sfiducia e paralisi, votata la revoca della Presidente, a Alta Valle del Metauro, divisa su tutto, ipotesi, commissariamento e attesa. Gambini aveva ritirato la mozione per senso di responsabilità, aspettando il nuovo statuto ed altri comuni. Vista Redda, Fossombrone, il Comune ha rinnovato il servizio, il passaggio intermedio dura 5 secondi invece di 3, il Comune investe su queste telecamere 147 mila euro. Dunque per il rinnovo triennale del servizio Vista Redda, Fossombrone, nei due centri semaforici, lungo la vecchia Flaminia, è stata prevista dal Comune una spesa di quasi 150 mila euro. dalla Valle del Cesano, aiuti alle persone in difficoltà, arriva un nuovo indicatore, Mondolfo lavora all'introduzione del fattore famiglia per erogare delle prestazioni. Cezanense, c'è l'ok della Regione, approvata la variazione di bilancio, siamo a San Lorenzo in campo, via agli spropri, presto inizieranno dunque i lavori, dicevo approvata la variazione di bilancio, stanziati 500 mila euro utili a tutta la vallata. I ragazzi del 39 sono invece in questa fotografia con il Vescovo, è stata un'occasione per un festoso incontro fra tanti amici della classe 1939, quello che si è svolto a Mondolfo domenica scorsa e Giuseppe Rondoni, Vescovo emerito, anche lui della classe 1939 ha partecipato a questo incontro. Andiamo sulla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico, alluvione, la difesa di Mangialardi del sindaco, nessun ritardo, noi subito attivi. Il sindaco è stato interrogato per oltre tre ore dai PM, ha consegnato una memoria di 60 pagine, sono pronto, dice lui, a produrre ulteriori documenti su progetti e percorrimisa. Ancora da Senigallia, però questa volta la cronaca, sesso, droga, alcol al porto e allarme, coppiette appartate per le fusioni a luci rosse, tossici nascosti tra i massi, ovunque bottiglie vuote. E questo è il problema segnalato questa mattina, pagina 42 sul Corriere Adriatico da Senigallia. Un tratto della banchina di Levante è il luogo di ritrovo lontano da sguardi indiscreti. Magazzini distrutti invece dal fuoco, adesso si cercano gli inneschi. Blitz a scuola per scovare gli spacciatori e sono stati presi i ladri. Alla materna Vivere Verde sono spariti un televisore e un... scusate, il Blitz a scuola non c'entra niente con la fotografia, mi ha ingannato un attimo la fotografia qui sotto. In realtà sono due cose diverse. Il Blitz a scuola e dei ladri, ok? Presi i ladri. Alla materna sono spariti il televisore, un tablet acquistato dai genitori, denunciato in un senigallese e il complice russo, coinvolto anche nel ride dalla pilota Bolchi. E questa è una notizia. Sotto invece è un'altra cosa. Al campus, sempre a Senigallia, scattano i controlli antidroga con il cane Anita. Iesi, la cronaca, viene urtato e cade un'altra auto lo falcia, muore un ciclista, passeggiava vicino casa, un doppio investimento, quindi la prima macchina ha urtato il ciclista e lo ha fatto cadere. Quella dietro, purtroppo, gli è andato sopra e lo ha falciato. Un doppio investimento sul ponte San Carlo a Minonna. La vittima è Mario Ceccarelli, aveva 78 anni. Questa è la cronaca di Iesi. Mentre una buona notizia per gli automobilisti che spesso vanno in Umbria o anche devono andare a Roma, è stata riaperta parzialmente la strada per l'Umbria, quella interessata poi dal terremoto. Tre finestre quotidiane per il transito tra Visso e Preci aumenteranno con l'installazione dei paramassi. Il sindaco Pazzaglini inaugura con Del Rio, Armani e Ceriscioli. Fine, al Giro dell'Oca, dei percorsi alternativi. Chi sa cosa ha dovuto fare per andare a Roma o per passare da quelle parti sa di quale Giro dell'Oca si parla. Gli automobilisti lo sanno. E quindi questa è davvero una buona notizia. Poi, una breve di sport. Andiamo a Sant'Angelo in Vado per dirvi che la Vadesa ha esonerato l'allenatore Salvi. Oggi c'è la Coppa Italia di eccellenza, l'Atletico Alma ospita l'Urbania che all'andata vinse 4 a 0. E poi l'Adriatico. L'Adriatico è il mare delle tartarughe. Siamo sulla pagina ambiente del resto del Carlino. Vengono qui perché c'è tanto cibo. Crescita record dal 2004, più 50%. L'analisi è dell'esperto Sauro Pari. Infine, ieri abbiamo parlato di quello scandalo legato all'Ave Maria detta e chiesta da una insegnante, da una professoressa, ai suoi studenti. Oggi il resto del Carlino pubblica la risposta del Vescovo di Macerata. Ave Maria contestata in Ateneo. Il Vescovo dice pregare fa paura. Macerata, con ironia, il Vescovo difende la professoressa sotto accusa e il Vescovo si rivolge ai fratelli anticlericali. E sapete cosa dice il Vescovo? Grazie per le vostre proteste. Scusate anche se vi disturbiamo. E noi, per esempio, a Fanotv disturbiamo quasi tutto il giorno perché di Ave Maria ne diciamo almeno 150 al giorno, anche prima di andare in onda qua con la rassegna stampa, ne abbiamo dette 50. Abbiamo 50 al mattino, 50 alle 3 del pomeriggio in diretta e poi altre 50 nel pomeriggio. E quindi, insomma, è un bel disturbo. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Il 338 4968 250 invece è come sempre a vostra disposizione per le segnalazioni. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata. di Pottor sayesano la notizia